Ormai, oramai, 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 se verrà, se verrà, le parlerò, accarezzandola, quindi qui da me lei verrà. E poi mi dirà che ci sta, che ci sta, chissà se ci sta, mai le dirò, che muoio e per lei, la tratterò male. Ma come la tratterai male? L'abbiamo detto anche alle prove, non la devi trattare male, se la tratti male noi prendiamo e ci gianghiamo, non è il caso di trattare male. L'abbiamo detto alle prove, non la devi trattare male, anche questo qui l'abbiamo detto alle prove. E poi mi dirà che ci sta, che ci sta, chissà se ci sta. Mai le dirò, le dirò, le dirò, che muoio per lei, no! La tratterò male, e mi ami, e mi ami, e mi ami. Presa? Vado. Va bene.